Salve a tutti e a tutti Celebrando il Montevisione che abbiamo raggiunto insieme C'è lo che hai che valorare di loro e come si trattano queste cose in la giustizia Come lo dice la Presidente aca e come stanno dicendo Drossit Esos consensos se logran primero con alcun conflitto Con alcun partido, un partido viene di parte Uno propone una parte Los actores principali della democracia argentina según la constituzione nazional sono partidos políticos Partido viene di parte e uno propone una parte Propone esto si e questo no Non propone todo